Prof. Rossetti, il DataGate ha messo in luce le relazioni che esistono tra i giganti del web e le agenzie di spionaggio negli Stati Uniti. Ma questi rapporti sono sempre legali, sono sempre leciti? Bisogna capire che il contesto di cui stiamo parlando non è quello della normale indagine di polizia, ma quello dei servizi segreti. E quindi i rapporti tra servizi segreti e agenzie informative è disciplinato da una serie di leggi ad hoc. Quindi nel caso di ciò che è accaduto in America, sì, la risposta è sì, il rapporto è legale. È legale non dal punto di vista del diritto penale, del diritto civile, ma è legale dal punto di vista di quel diritto che disciplina i rapporti tra cittadini e servizi segreti. I big data possono semplificare molto la nostra vita, però a quanto pare possono anche svelare tutto di noi. Ecco, quali limiti dovrebbe avere l'occhio elettronico? In realtà non lo sappiamo quali limiti dovrebbero avere. Questo è il grande problema che affrontano oggi gli studiosi di privacy, perché il fenomeno dei big data è tale per cui noi non sappiamo effettivamente quali sono i dati che sono rilevanti per definire la nostra identità digitale. La risposta che potrebbe dare un po' la dista è nessuna, cioè io non dovrei lasciare nessuna informazione possibile al grande occhio, al grande fratello. È chiaro che la risposta è impossibile. Io credo che saranno le generazioni future a dare una risposta sensata a questa domanda. Il garante della privacy ha lanciato un allarme sul rischio privacy in Italia, ma qual è la situazione nel nostro paese? La situazione è analoga a quella negli Stati Uniti, ossia anche se è molto sfuggito, il 31 marzo ultimo scorso il governo ha emanato un decreto legge che disciplina esattamente i rapporti tra i servizi, i servizi informativi, i servizi segreti e i grandi internet service provider. Scaricando sugli internet service provider l'obbligo di interagire, di dare ai servizi segreti i dati che questi richiedono in virtù, in nome di una non meglio specificata, non meglio definita sicurezza informatica. È chiaro che questi rapporti sono complicati non solo dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista politico. Giuridicamente sono ammessi e è opportuno capire se dal punto di vista politico una democrazia può sopportare rapporti di questo genere. Dobbiamo dunque rassegnarci al fatto che la trasparenza del web sia solo un mito? La trasparenza è un mito nel senso che trasparenza non è sinonimo di democrazia, questo mito dobbiamo assolutamente abbandonarlo. Invece non è un mito che tutto ciò che noi facciamo nel web è trasparente, bisogna rendersi conto che ogni volta che noi accediamo a un sito, ogni volta che noi visitiamo un particolare servizio sul web, lasciamo una traccia e questa traccia può essere con relativa facilità anche rintracciata e usata eventualmente contro di noi. Ci sono dei modi eventualmente per difendersi e tutelarsi in questo senso? Il modo banale e più semplice da usare direi non condividete, non mettete sui social network le cose che non volete che vengano sapute da tutti, perché in realtà non sappiamo davvero quale grado di condivisione sia concesso ai servizi segreti dei grandi servizi come Google, come Facebook, come Microsoft. Quindi se una cosa è privata, se una cosa è un segreto, semplicemente non mettetela online.